bentornati bentornati sul canale siamo ancora nella vigilia la vigilia di interlazio partita che domani andrà in scena in arabia saudita come sappiamo il nuovo format che prevede appunto non solo la trasferta fino in arabia saudita ma semifinale finale questa sera la finale la prima finalista sarà decisa e verrà fuori dal match tra napoli fiorentina domani interlazio poi la finale lunedì prima di affrontare il discorso mercato il discorso daremi il discorso benzema per raccontarvi un po le le quello che è quello che 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 mi arriva parliamo di campo e intanto stavo vedendo le ultime informazioni in mano sono altre altre notizie che non che mi arrivano non c'entrano nulla con l'inter questa volta e dicevo parliamo di campo parliamo di di probabile formazione c'è stato in casa lazio un piccolo spavento per quanto riguarda rovella colpito duro in un contrasto durante il torello prima della rifinitura ha dovuto uscire piede fasciato attualmente rovella quindi in dubbio per la partita di domani eh si scalda cataldi eh un paio di 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 ballottaggi in casa lazio in difesa non è al meglio patrick dopo il problema alla spalla avuto nell'ultima partita contro il lecce quindi eh dovrebbe essere ancora chila a completare eh la il reparto difesa centrale assieme a Romagnoli eh a centrocampo occhio a Vesino che si candida per un ruolo di mezzala titolare al posto di Luiz Alberto che come sappiamo in alcune partite Sarri preferisce farlo entrare a gara in corso davanti invece Immobile è tornato a giocare negli ultimi minuti dopo l'infortunio negli ultimi minuti contro il lecce non è ancora al top della condizione ha giocato una decina di minuti potrebbe anche partire chiaramente titolare domani eh ma al momento sono in rialzo le quotazioni di Isaac Sen quindi Isaac Sen dovrebbe partire largo a destra Zaccagni largo a sinistra e nel ruolo di falso nuovo di falso centravanti il falso nueve Felipe Anderson ma ancora tutto da da decifrare io non escludo la partenza di Immobile dall'inizio anche perché manca Castellanos che è proprio il il giocatore eh preso per sostituire Immobile che non sta facendo nemmeno malissimo dopo una partenza difficile comprensibile peraltro non sta facendo proprio male anzi ultimamente si si stava ritagliando uno spazio eh in maniera anche meritata devo dire se è fatto male sa non è proprio a disposizione e quindi questo è per quanto riguarda la situazione in casa Lazio per quanto riguarda l'Inter ehm rispetto a Monza dovrebbe ornare dall'inizio a Cerbi al centro della difesa con Pavard confermato e Bastoni confermati in porta chiaramente Sommer occhi a destra perché a destra c'è il ballottaggio tra Denzel Denfries e Matteo Darmian Darmian è ancora avanti Denfries sta recuperando qualche posizione non è ancora il Denfries straripante di inizio stagione eh si è fermato per quel fastidio muscolare quindi uno che fa della potenza della prepotenza fisica la sua arma migliore chiaramente un problema muscolare va a danneggiarlo di più rispetto a chi invece gioca prevalentemente di testa diciamo così e non di gamba eh quindi io metterei d'Armian ancora davanti rispetto a Denfries a sinistra di Marco in attacco la Tiula quindi Tiuram e eh Lautaro davanti eh a un centrocampo che dovrebbe essere il solito quindi Barella Cialanolu e Mkhitaryan ma se su Cialanolu già squalificato in vista della Fiorentina e quindi eh titolare presumibilmente domani e qualora l'Inter dovesse arrivare in finale anche in finale Mkhitaryan è irrinunciabile lo sappiamo eh il punto di domanda vero di domani secondo me è su Barella eh allora diciamo così a oggi Barella parte titolare però è in diffida e io vi ricordo che le eventuali eventuali cartelline gialle quindi eventuale squalifica verrà comunque addebitata al malcapitato in campionato qui andare a Firenze eh senza Cialanolu eppure senza Barella due terzi di centrocampo di tolare fuori sarebbe e magari con la Juventus che ti arriva a più quattro perché gioca con Lecce poi giocherà il giorno prima di Fiorentina Inter giocherà con l'Empoli in casa eh sarebbe dura da digerire diciamo così quindi non lo so io vedo questo balottaggio con frattesi anche se ripeto davanti parte Barella per il resto eh come vi ho raccontato la solita Inter è anche giusto così veniamo al mercato mh l'accordo c'è tra Medi Taremi e l'Inter dopo lunghe trattative e partite io vi ricordo da da mesi perché prima del Milan a Taremi si era interessata fortemente l'Inter e l'Inter l'avebbe potuto prendere poi ha fatto altre scelte questa è la verità eh ma è un profilo che è sempre piaciuto dalle parti a piano gentile è un profilo conosciuto e va bene ma soprattutto seguito da tempo e non solo da da quest'estate ma già dalle ultime stagioni piace piace parecchio piace anche il fatto che è un parametro zero ed è stato trovato l'accordo come peraltro automo di confermare anche Fabrizio Romano in questo pomeriggio eh c'è l'accordo totale tra il club nerazzurro e l'attaccante iraniano che vi ricordo è impegnato in in Coppa d'Asia con la sua nazionale eh e gli ultimi dettagli saranno proprio ultimati alla fine della dell'avventura dell'Iran in questa competizione. Nel frattempo ha già parlato Taremi e a domanda precisa sulla possibilità di vestire il prossimo anno la casacca dell'Inter e non ha negato non ha negato ha semplicemente svicolato dicendo non è questo il momento di parlare dell'Inter aprendo chiaramente un mondo un assist di platino a tutti quelli che da da tempo stanno parlando di questa di questa trattativa chiaramente non non negando ma di fatto rimandando e lasciando lasciando intendere non ha fatto altro che confermare quello che insomma ormai tutti sappiamo che le parti sono veramente vicine anzi l'accordo di fatto è stato trovato ricordo un contratto di due anni più l'opzione per un terzo questa dovrebbe essere la base e mancano proprio gli ultimissimi dettagli. Nel frattempo si è sparsa e qui chiudo la voce di un possibile approdo all'Inter a gennaio di Karim Bezema. Allora prendendo un po' anche lo spunto di Henderson stato che nel frattempo è andato all'Ajax contratto di di sei mesi e c'è questa ondata di calciatori che già dopo quattro mesi insomma sono sono scontenti del loro della loro vita nel campionato saudita nella pro saudili. È come se si dovessero aspettare chissà cosa lo sapevate voglio dire che andavate a giocare in un campionato che forse a livello di quello che gioco io veramente veramente a parte chiaramente quelle squadre che hanno preso sette otto giocatori dall'Europa comunque nazionali però per il resto è o sono figurine appunto messi insieme e non vuol dire essere squadra abbiamo visto pure al recente mondiale per club e oppure sono squadre veramente meno dei dei nostri dilettanti parliamo forse di squadre adatte a un campionato di di promozione e e tanti stanno sta si stanno stufando tra questi di benzemà circa una voce addirittura di una sua imminente un suo imminente addio al campionato arabo e si è parlato pure di inter in realtà a livello di indiscrezioni globali quindi dall'estero si parla soprattutto del ritorno in mezzo all'olimpic lione che nel frattempo ha preso gift orban per 13 milioni e questo so che è una notizia che che farà male a molti della della community di questo canale che hanno sponsorizzato orban da mesi da settimana e 13 milioni e si è accordato con lione quindi vedo anche dura adesso andare a prendere benzemà pagandogli un ingaggio comunque per quanto vuoi alto per il standard del lione ma sarebbe alto anche per il standard dell'inter anche qualora benzemà volesse rinunciare ai soldi arabi e tornare in europa per giocare ad alti livelli comunque chiederebbe uno stipendio credo sul livello di quelli di lautaro dice la nolu quindi 7 8 9 milioni e l'inter diciamo che non ha possibilità è un'eventualità che personalmente mi è stata categoricamente esclusa ambasciatore non porta pena quindi io non posso fare altro che dirvi che per se per taremi l'accordo c'è per benzemà l'accordo attenzione non l'ufficialità la firma l'accordo c'è per benzemà invece niente di niente un saluto